Buongiorno da Edo, lo sapete dov'è Pignola? Pignola, ve lo faccio vedere, Pignola sta qua, sta qua in provincia di Potenza, per darvi un'idea di dove si trova geograficamente, eccola qui, immersa all'interno della Basilicata, perché vi sto parlando di Pignola? Perché questo weekend ho avuto il privilegio di far parte del pool di speaker che hanno parlato, che hanno portato le loro esperienze al Come2Code. una conferenza, una techconf, proprio a Pignola, proprio nel cuore del Sud Italia, ed è stato un evento fantastico, la community era veramente calda, ci sono state bellissime discussioni, i talk erano di alto livello, spero anche il mio, però i feedback che ho ricevuto sono stati positivi, la location era fantastica e gli organizzatori erano assolutamente disponibili, erano calorosi, accoglienti, ci hanno messo a noi speaker, insomma, tutti nella condizione migliore per poter portare qualità e valore e poi soprattutto ci sono trattati da re e da regine, quindi, insomma, una bellissima esperienza, credo anche per chi è venuto a sentirci e a chiacchierare, ovviamente questo giro siamo noi speaker e tanti erano attendisi e spettatori e ai prossimi giri ci si ruotano, non siamo una comunità verticale in cui uno parla e gli altri ascoltano, la prossima volta probabilmente io ascolterò parlare qualcuno che questo giro era seduto in platea ed è fantastico così, un gruppo di persone che si ritrova insieme e condivide questi interessi, queste esperienze che abbiamo maturato nel nostro lavoro, quindi, fighissimo, qui state vedendo un servizio del TG regionale di Rai, perché devo dire, insomma, che un evento di questo livello, di queste dimensioni, di questa portata in Basilicata non si trova facilmente, ecco, è stato veramente un livello molto alto che per queste zone, che sono ovviamente difficili da raggiungere, insomma, diciamo che logisticamente non è facile arrivare in queste zone, però comunque è arrivata gente veramente da tante parti d'Italia con diverse ore di viaggio, insomma, tutto questo per dire che mi sono divertito tanto, ho trovato tanto valore, spero di aver portato del valore e magari ci vediamo anche l'anno prossimo, quindi segnatevi, pignola, come to code, cercatelo su tutti i social e mettetelo nella saccoccia degli eventi a cui volete partecipare, a cui dovreste partecipare e magari ci vediamo l'anno prossimo. E ora direi di partire con le news di oggi. Allora, e anche oggi dobbiamo naturalmente dedicare l'episodio del buongiornissimo a Unity. Unity, il game engine, il motore per creare videogiochi 2D e 3D, che come sapete, perché ne abbiamo parlato in almeno due delle scorse puntate, ha cambiato i termini degli accordi con gli sviluppatori di videogiochi che l'avevano utilizzato, imponendo delle nuove politiche di prezzo, da un momento all'altro, insomma, senza preavviso, in politiche che sarebbero entrate in vigore nel primo gennaio del 2024, naturalmente grandi proteste, grandi rimostranze da parte degli sviluppatori stessi, e un ritorno di fiamma tale da costringere Unity stessa a fare marcia indietro e a pubblicare una open letter sul proprio blog, praticamente un post sul proprio blog, scritto da Mark Witten, che è leader di Unity Create, che è una divisione che include lo Unity Engine e gli editor teams. E questa open letter come va? Inizia così, voglio iniziare con questo, mi dispiace, inizia con I am sorry, e poi dice abbiamo ascoltato le vostre preoccupazioni e stiamo facendo cambiamenti nelle policy che abbiamo annunciato. Prosegue la lettera, il personal plan, lo Unity personal plan rimarrà free, e non ci saranno runtime fee, quindi non ci saranno pagamenti da fare a Unity per i giochi costruiti con Unity personal. Poi aumenteranno il cap da 100.000 dollari a 200.000 dollari, il cap quindi la cifra sotto la quale non si applicherà nessun pagamento, quindi prima era 100.000 diventerà 200.000, quindi tutti i giochi sotto i 200.000 non dovranno pagare niente a Unity, e rimuoveranno il requisito di mettere lo splash screen made with Unity in questi videogiochi. Inoltre, nessun gioco che ottiene meno di un milione di dollari in revenue, in un arco di 12 mesi, sarà soggetto a questa fee, quindi sono i giochi che in un anno ottengono di più, riescono a vendere e a fatturare di più di un milione di dollari. Inoltre ci sono dei cambiamenti per Unity Pro e Unity Enterprise, che sono i due piani a pagamento per Unity, e quindi la runtime fee policy, quindi questa policy di pagamento per ogni runtime, verrà applicata a iniziare dalla prossima release LTS di Unity, che verrà lanciata nel 2024, quindi dal 2024 in avanti. I giochi che sono pubblicati e i progetti su cui si sta lavorando oggi con le versioni attuali di Unity non saranno inclusi, a meno che lo sviluppatore deciderà di aggiornarli alla nuova versione di Unity. Inoltre, e chiude, per i giochi che rientrano nei limiti di questa runtime fee, vi daremo una scelta, in pratica potete scegliere tra darci il 2.5% del revenue totale, quindi dello share del revenue totale, oppure la somma calcolata sulla base del numero di, e qua c'è questa dicitura particolare, people engaging with your game each month. Sapete che una delle cose su cui la community si era concentrata maggiormente sugli annunci delle scorse settimane, era questo installs, game installs, cioè questi fee che venivano applicati a quello che veniva definito game installs, e quindi è venuto fuori, ok, ma se uno si installa il gioco due milioni di volte, e se uno si installa il gioco su device diversi, come funziona questo? E lo streaming? E le sala giochi? E i musei? Insomma, ci sono vari casi da considerare, i game pass e tutto. Invece questo è stato sostituito con people engaging with your game, che comunque è anche qua un po' particolare questa formula, le persone che riesci a ingaggiare, non so come tradurlo, con il tuo gioco. Poi c'è però una precisazione in un FAQ che vedremo più tardi. E poi la open letter si chiude con l'invito a una live fireside chat, una chat con i sviluppatori, e poi saluti, grazie per averci supportato, per averci dato il vostro feedback, insomma, è la firma di Mark Whitten. E quello che a me viene da dire su questa lettera, intanto, è che è strano, mi sembra strano, che questa lettera sia firmata da Mark Whitten, che è appunto il leader di Unity Create e non dal CEO Ricitiello, che è, a parte che è quello che dovrebbe decidere sulle operazioni di business dell'azienda e quindi anche rispondere eventualmente se i clienti dell'azienda stessa hanno qualcosa da ridire. Mi aspetterei che fosse il CEO a esporsi pubblicamente e eventualmente fare delle pubbliche scuse e marcia indietro, cambiare le pollici. Invece ha, diciamo, delegato questo ingrato compito a Mark Whitten, che è semplicemente un esecutivo, certo, il direttore della parte di Create, quindi probabilmente un developer, uno più vicino alla sensibilità dei developer. Ricitiello dovrà probabilmente aver capito di non risultare al momento particolarmente simpatico alla community. E un'altra cosa è che qui non vengono citati i Terms of Service, o meglio, sì, viene citato il fatto che ora si possa rimanere sui Terms of Service della LTS con cui si inizia lo sviluppo e rimanere con quelli, però non viene indirizzata la polemica sul cambiamento dei Terms of Service, che mi sembra in realtà il punto fondamentale. Non è tanto sul quanto si deve pagare, in che modo si deve pagare, anche se certo c'erano dei problemi su quelle questioni, ma qui il punto è stato proprio il cambiamento radicale, non anticipato, dei Termini di Servizio, dei TOS, tra l'altro oscurando la pagina GitHub che pubblicava i Terms of Service sul repo di Unity e ne tracciava il cambiamento negli anni, insomma, teneva traccia delle revisioni a questi TOS negli anni. Quella pagina era stata oscurata. Quindi su queste decisioni unilaterali, su questo cambiamento dei termini in corsa con gente che aveva già progettato i propri videogiochi per funzionare su Unity negli anni, questi cambiamenti che arrivavano così repentini come una mannaia. Era un po' lì la perdita di fiducia intorno a questo progetto era data soprattutto da questo atteggiamento e qui mi sembra che non venga indirizzato nell'open letter. Peraltro si è andati a scoprire una risposta del team di Unity a uno sviluppatore contrariato ovviamente su Twitter, contrariato a proposito proprio della rimozione della history dei Terms of Service da GitHub. La risposta dell'account ufficiale di Unity dice testualmente abbiamo rimosso quella pagina, quindi abbiamo rimosso i TOS da GitHub prima che ci fosse l'annuncio del cambiamento di prezzo perché le view erano troppo basse. Le view di quella pagina erano così basse e quindi non aveva senso ottenerla, non perché non volevamo che le persone la vedessero. Questa è la risposta ufficiale che è ancora su Twitter, su X, perdonate, dell'account di Unity. Non so bene come commentare. Comunque su The Registro trovate un articolo ripilogativo che peraltro va a prendere la FAQ di Unity che va a spiegare in maniera molto più sintetica quali saranno le nuove policy. Le policy, quindi i nuovi fee, i nuovi pagamenti da fare a Unity dovranno essere fatti dai giochi, dai progetti che matchano tutti e tre questi requisiti. Il gioco deve essere uno Unity Pro o Unity Enterprise Plan. Quindi uno di questi due piani, lo Unity Free, il piano Unity Free non è contemplato. Poi il gioco deve essere creato o dovrà essere aggiornato con la prossima versione dello Unity Engine prevista per il 2024. Quindi tutte quelle precedenti non sono contemplate. E inoltre il gioco deve raggiungere due criteri numerici, quantitativi. Uno è di tipo finanziario, deve raggiungere un milione di dollari di revenue nell'arco di 12 mesi. E l'altro invece è sugli Initial Engagements, come si diceva. Quindi sono un milione di Initial Engagements. Detto in prole povere sarebbero un milione di utenti che scaricano il gioco, che comprano il gioco. E sull'articolo che Ars Technica ha dedicato a questo argomento si parla proprio del cambiamento di nomenclatura da Installs a Initial Engagements. E si dice, secondo le FAQ di Unity, ora questo è un indicatore statistico che parla del numero di utenti che hanno o comprato e scaricato il gioco per la prima volta, quindi sono utenti distinti, che comprano e installano il gioco, oppure che giocano per la prima volta a un prodotto Unity online o in un'altra forma. Ecco, quindi se ci fosse un museo che mette in mostra o fa giocare con un gioco Unity i propri visitatori, si conterebbe soltanto l'installazione prima del museo stesso e non tutte le volte che qualcuno ci va a giocare. E in chiusura di questo stesso articolo si parla proprio di un po' di reazioni della community, dei developer Unity, su questi nuovi cambiamenti. E ci sono alcune reazioni positive. Si inizia intanto con Rami Ismail, che era uno di quelli più critici che avevamo affrontato nelle scorse puntate, che invece adesso è abbastanza positivo. Dice a una prima occhiata che mi sembra che siano positivi questi cambiamenti, mi sembra che funzionano. Non c'è reattrattività, c'è stabilità nelle versioni, nelle LTS, quindi anche nei TOS, non ci sono cose strane, ecco, delle black box, e penso che questa roba possa funzionare. Il co-founder di Tradirians, che attualmente è uno sviluppatore indie, che è George Broussard, ha aggiunto che questa roba è stata fatta bene, Unity l'ha fatta bene, ed è più di quello che ci si aspettasse da loro. Inoltre, lo sviluppatore Radiangames ha scritto che Unity ha risolto tutte le issue principali di questo nuovo accordo, tranne la fiducia, e che adesso disinstallerà Godot e l'Unreal Engine e tornerà a lavorare con gli strumenti, naturalmente penso che sia una provocazione, perché non credo che avesse immediatamente installato sia Godot che l'Unreal Engine, subito dopo aver letto i blog post dei cambiamenti delle policy di Unity. Ma comunque, non sono soltanto positive le reazioni, ovviamente, e chiude l'articolo proprio Ars Technica dicendo che altri non sono stati così disposti a perdonare, ecco, Unity in questi cambiamenti. Si riporta, per esempio, la dichiarazione di Red Vonix, che è uno developer di Cerulean e Drunk Robot Games, che in pratica non si fida più di Unity e dice che non svilupperà mai più un videogioco con questo motore. E per completare, diciamo, il numero delle reazioni non proprio positive, vado su PC Gamer e trovo il fondatore di Face Punch Studios, Gary Newman, che dice, che aveva detto inizialmente che Unity poteva andarsene a fanculo, in risposta all'annuncio originale, ho già detto che, nonostante, diciamo, la nuova proposta, i nuovi cambiamenti sembrano ok, non cambierà la posizione perché la fiducia è stata rotta. Questa è stata una sveglia per tutti e quindi questo tipo di minacce potrebbe apparire di nuovo in futuro, quindi non è il caso di fidarci. Poi si ricorda quello che ha fatto il developer di Terraria, a Relogic, con quella lettera in cui annunciava il suo supporto a Godot, per esempio, a motori open source, che quindi chiudeva dicendo appunto che il danno alla fiducia verso Unity era molto difficile da riparare. Infatti, molti stanno appunto rimarcando questo concetto. E sempre su As Tecnica trovate anche un'intervista che ho trovato abbastanza interessante con lo stesso Mark Whitten, l'autore della open letter sul blog di Unity. E in questa intervista si fa finalmente riferimento anche ai TOS, ai Termini di Servizio, ai Terms of Service, che incredibilmente sono stati ripristinati magicamente. Infatti, se voi andate adesso sul GitHub repo di Unity Technologies, ritrovate la pagina dei Terms of Service che era stata oscurata ed è stata invece riportata su, la ritrovate con tutte le varie revisions che ci sono state negli ultimi anni. L'intervista con Mark Whitten si chiude parlando di problemi di comunicazione che ha avuto Unity, problemi anche che hanno portato molti sviluppatori a credere che i loro giochi sarebbero rientrati nelle nuove policy, nelle nuove runtime fee policy, cosa che in realtà, secondo lo stesso Whitten, non era vero, cioè la grande e maggior parte dei giochi non sarebbe stata intaccata da queste nuove policy e la comunicazione è stata errata e anche la mancanza di un tool online per fare una estimation dei costi avrebbe portato magari a far capire a molti che questi costi non sarebbero stati applicati ai propri progetti, ma in ogni caso la mancanza di attenzione in questa comunicazione e soprattutto il grave danno alla fiducia potrebbe essere qualcosa che sarà difficile da recuperare, quindi è una cosa che lo stesso Whitten riconosce e quindi gliene va dato atto e inoltre riconosce che questa fiducia si riconquisterà con le azioni e non con le parole quindi intanto ci mette la faccia e va a spiegare quello che è andato storto quello che lui pensa sia andato storto e tutte le azioni che Unity sta mettendo in campo per recuperare e quindi insomma adesso vediamo un po' come evolverà intanto queste sono le nuove policy dovrebbero essere stabili dovrebbero essere effettive ma insomma sono successe talmente tante cose in talmente pochi giorni che potrebbe anche cambiare tutto di nuovo chi lo sa continuiamo a seguirlo perché comunque è piuttosto frizzante interessante in chiusura di questa puntatona un'altra notizia arrivata dalla open source summit di Bilbao open source.com risorge la community l'intera community di open source.com quel blog pieno di articoli sull'open source che era di proprietà di Red Hat che Red Hat ha deciso di chiudere adesso entra a far parte di open source initiative quindi open source initiative diventerà la nuova casa di open source.com che non si chiamerà più e non si troverà più su open source.com ma su open source.net sul blog di Osi che è Voices of Open Source in un articolo appunto a firma di Stefano Maffulli che è l'executive director di open source initiative dovrei dire l'italianissimo Stefano Maffulli insomma ha scritto appunto di cosa succederà ora a open source.net la nuova la nuova open source.com spiega un po' la sua storia i 12 anni della sua storia quindi un un progetto piuttosto importante e noto all'interno della community e spiega anche che ora questa nuova entità sarà un'entità non profit e tutti gli articoli pubblicati in open source.net sono articoli saranno ecco protetti da licenza creative commons inoltre tutti gli articoli pubblicati su open source.com verranno gradualmente portati ecco sulla nuova piattaforma open source.net tra l'altro con l'aiuto ecco di Red Hat che facilita questo passaggio di consegne in chiusura qualche dettaglio su quello che sarà la nuova community il nuovo open source.net sarà ovviamente un progetto comunitario e open source e sarà probabilmente un progetto WordPress perché appunto Automatic che è la compagnia che sta dietro a wordpress.com sta facendo il lavoro ecco sta assistendo la OSI per creare il sito web dove sarà ostato questo progetto quindi direi che non possiamo che complimentarci e ringraziare open source initiative e il suo director Stefano Maffulli per questa opportunità ecco questo regalo che fa la community quindi di riportare tutto tutto questo contenuto sul nuovo progetto che sarà un progetto aperto di grande contributo per la community open source quindi vi invito a continuare a seguire open source initiative e ovviamente open source.net quando risorgerà dalle sue ceneri e quindi abbiamo chiuso la puntatissima di oggi grazie a tutti per avermi seguito grazie ancora a Camp2Code all'organizzazione di Camp2Code per il bellissimo weekend grazie a Maurizio Francesco insomma a tutti gli altri che ci hanno fatto passare questa bellissima conferenza domani non ci vediamo che ho robe da fare però vedrete che il mio faccione questa settimana riciccerà fuori da qualche parte quindi ci vediamo ovunque sarà ciao grazie a tutti ieri